L'unico neo forse, Cristiano, che non è riuscito a proseguire questa striscia positiva di Reti? Non ha proseguito la striscia positiva di Reti, ha fatto soprattutto un bel secondo tempo tecnico perché ha giocato senza l'ossessione del gol, infatti nel secondo tempo è capitato i quattro palli importanti, tra cui il rigore. Nel primo tempo invece abbiamo sbagliato diverse situazioni perché abbiamo avuto troppa fretta, cosa che invece nel secondo tempo non abbiamo avuto. Inizio su Dybala che è riuscito a sbagliare per tutto il campo con tanta qualità. Ha fatto una partita importante, una delle migliori sotto l'aspetto tecnico, Paolo sta crescendo molto, deve proseguire su questa strada che lo porterà secondo me a diventare un giocatore straordinario e comunque i gol li farà sempre perché comunque fino ad ora le occasioni le ha avute. È normale che in questo momento deve trovare un equilibrio dentro se stesso, dove non deve essere ossessionato al gol perché comunque alla fine della stagione 10-12 gol li farà. Abbiamo visto Isperazione bene negli ultimi minuti, rimane? Isperazione è il giocatore di Juventus e rimane la Juventus. Grazie.